Non spenge i motori la macchina della solidarietà retina a favore delle popolazioni terremotate. È stata infatti organizzata dall'Associazione Cultura Nazionale per domenica 11 dicembre all'hotel Minerva di Arezzo una cena di beneficenza per Amatrice. Per la prima volta farà un tour qui ad Arezzo il sindaco Pirozzi, non si era ma mostro di Amatrice, verrà ad Arezzo e noi abbiamo colto l'occasione per fare una grande scena di beneficenza con lui e con lo chef per far passare il Natale un pochino meglio a queste persone che hanno avuto questo disastro così incredibile. Quindi il sindaco Pirozzi sarà con noi, chiedo alla città di Arezzo di rispondere positivamente al nostro invito di una scena dal costo di 25 euro che non vuol dire quasi nulla ma per loro vuol dire tanto perché è un aiuto concreto che noi vogliamo dire. Ci saranno varie iniziative all'interno della serata, la presentazione del libro di Emma Morricone Amatrice Dolce Amare Terra Mia, premieremo con la prima edizione del premio Città di Arezzo il sindaco Pirozzi e premieremo anche lo chef che viene a fare il cookie show della matriciana perché è del ristorante Matru, il titolare del ristorante Matru che purtroppo ha perso tutto, anche degli affetti, quindi noi lo vogliamo premiare e ringrazio tutti i partner che con noi hanno condiviso questo grande percorso. Se volesse partecipare a questa cena di solidarietà cosa deve fare? Deve chiamare i numeri che sono nel manifesto che è il mio, il 345-331-3044, quello di Sonia Nannarelli vicepresidente dell'associazione oppure culturanazionale.com che è il sito, che è l'email dell'associazione.